Ascolti TV, fiori sopra l'inferno e VIP, non c'è partita tutti i dati. La fiction di Rai 1 fiori sopra l'inferno i casi di Teresa Battaglia conferma gli stessi ottimi dati della scorsa settimana. Interessando 4,7 milioni di utenti, 24,6% di share. Staccatissimo il grande fratello VIP su canale 5 che ha coinvolto. Al pari di 7 giorni fa, 2,7 milioni di spettatori, 20,3%. Anche stasera tutto è possibile su Rai 2 mantiene praticamente invariato il proprio pubblico. Intercettando 1,4 milioni di persone, 8,8%. Trattasi di buoni dati per lo show ultimo nato da Stefano De Martino. Crescono sia Freedom, Italia 1, sia Presa Diretta, Rai 3. Di seguito tutti i dati relativi al primo time di lunedì 20 febbraio 2023. Soliti ignoti e l'eredità battono nuovamente striscia la notizia e avanti un altro. PENTRU ELI E DE BUN SINI SĂ RIDIC STACHETA Liric vorbința, jungă la ea doar nasta cu racheta. S-o admire nave spațiale de pe Andromeda. Ăsta-i țelul, îl execuți ca pe Maria Antoaneta. Aia de când mă știu textul-i plin de dude. Dumele tante printre talea culte. Încerc flow-uri sute la show-uri buite. Cum rup capete, lumea dă din capă rupte. Obele bat cu inima deodată, nu le opresc. Că nu-s atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi ține pentru tine. Fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu. Grapper-ul din Totu, toți MC-ul care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avezi tu. Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu? 3, 7...